è difficile spiegare cosa vuol dire soffiare il vetro per me soffiare è come lasciare una parte della mia anima dentro l'oggetto la soffiatura è un lavoro di squadra dove non serve usare le parole ma usiamo il linguaggio dei gesti per comunicare e proprio per questo è così importante creare una sintonia una connessione tra nuovi collaboratori la nostra squadra mi affascina soprattutto l'oggetto quando è finito che vedi esposto e sai che tu l'hai creato con la mia fatica e con il mio fiato